Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gianluca e oggi siamo su GTA per un video a casa. Diciamo che è un po' come cosa andiamo in giro e facciamo casino e facciamo esplodere tutto il mondo e iniziamo. Non se ne era accorta che l'avevo sparata l'amico. Ma che cazzo? Io lo dico che questo gioco è veramente buggato. Certi cazzo. Però è fatto veramente bene solo noi. Allora andiamo un po' in giro. Innanzitutto eseminiamo la polizia e poi facciamo casino. Ah! Ah! Non esplodere! Che cosa? ragazzi voi mi dovete aiutare perché io in GTA non so praticamente guidare però ma sto facendo l'occhio. Cioè tipo non so fare le curve strette quelle cose. Sto cercando di salire ecco infatti ci sono riuscito. Ma che c'è una ruota buccata? No niente credo che avevo una ruota buccata perché sentivo vibrare il controllare. Fischietta andiamo in giro. Si può chiamare la pizzagistia? Che frendi non mangia mai qua. Che ne andiamo a deriva Oh, oh, un signore, un signore, un signore, un signore, 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 signore Ehi tu, ma chi è che chiami, eh? E tu, no, chi è che chiami, dimmelo, dimmelo, scemo, eh? Ma chi è che chiami? Eh, muovi, dimmelo Oh, pronto, pronto Non chiamare la polizia che ti uccide Cattivo C'è lezzo, lezzo Andiamo, andiamo, andiamo Allora, io direi innanzitutto di andare a comprare dei vestiti per Franklin E ora parlo così Perché sta vestito da gangsta E voglio vestirlo un po' da gangsta Giustamente Che cosa è qua? Non ci sono mai andate Vediamo Che cosa è? Ah, il campo da calcio No, no, c'era adesso Ok, benissimo Andiamo a Berlino Purtroppo la Juve ha perso Allora, noi dobbiamo andare a un bel negozio di vestiti alla vanguardia Io direi di andare qua Non esplodono le macchine Sono morto a Berlino Scusate per il messaggio Si sente I miei fan proprio Mi telefonano ogni 5 secondi Ho solo 3 iscritti Ah, comunque Dopo il video iscrivetevi al canale Mettete mi piace E condividete il video Per far sì che anche altri possano vedere il mio canale Di conoscermi e di iscriversi eventualmente Siamo già a 4 minuti di registrazione E quindi abbiamo quasi finito Perché se no ci metto gli anni a caricare i video Oh, e basta Ma tutti mi vogliono dare mazzale Non sono un Pugiboli Io sono Frank Che io sono John Cena No, io sono Mark Henry Che ti faccio la Warstone Rom Che schiena Come si chiama Vabbè Io ci riprovo a fare casino Ma vediamo Casino Bordello 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 Eh, ma che cavolo Nemmeno una Eh, ma Eh Bordello Oh Casino Se non distruggi le auto Non sei nessuno Cioè I pullman sono l'emblema No Amico Amico Non puoi andare alla fermata del bus Ok, andate Pagliate Ma ce ne andiamo a Berlino Muori Polizze No, 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 è finito Finito No, questa Basta Basta i messaggi Ce ne andiamo a Berlino Ce ne andiamo a Berlino Oh no Ho il fuoco E fiamme E fiamme Polizia Fin quando resisto Resisto Fin quando resisto Resisto Io sono Jack Sparrow No, ho mancato No, 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 via, via, via Scappiamo 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 Via, via, via Non parte Parte Mi sono fatto la macchina a buchi Via, via Emergenza, emergenza Questo video Lo chiudiamo Quando riesco A fuggire Dalla polizia Se non mi ammazza Prima No, no, no Non mi prenderò mai Non mi avrai mai Pula Non mi avrai mai Io sono un uomo libero I believe I can fly I believe I can touch the sky I Boom Mo Oh E vi levate davanti Sbirri Piedipiatti Non ho capito Perché li chiamano I piedipiatti Ah, scrivetelo Nei commenti Perché E Dite Perché Io non so Proprio Di queste cose Americani I piedipiatti Non camminano Questi qua Tengono i piedipiatti Oh Calma Ti vogliamo No La forma La forma Si scoppia Basta Sticcacchia Di messaggio No No Non ti fermare ora No Cammina Vai un altro Poi cambia Perché trovi un'altra macchina Ce la puoi fare Ce la puoi fare Macchinina Vai macchinina Corri Vai macchinina No Non ce la faremo mai Oh Oh C'è così Non ci vedranno là dentro Uh Di là non ci seguiranno Gli elicotteri Cosa cosa qua Uh Eh Vediamo Se stiamo fermi qua Mi trovano Non mi vedono Vai Secondo loro Un tunnel piccolo Non dobbiamo stare sotto No È scontato Ma io ho paura Che mi vedi Lo stiamo Che cacchia Che cacchia Che cacchia Che cacchia No No Sbira Sbira Come me l'hanno combinata La macchina È diventato un cassonetto Un cassonetto Per l'immondizia Vai Immondezzaio Vai vai Dai che li seminiamo Dai Dai che non ci vedono Perché non ci vedono Dai Andatemi Porca miseria Eh Stiamo già arrivati 8 minuti Di registrazione Ci metterò 50 ore Per fare È finì Ehiè Abbiamo finito Per oggi ragazzi Io sto sempre Più struppiato Ogni giorno Che passo Con Franklin E direi Ciao ragazzi Al prossimo video Lasciate un mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Grazie Bella ragazzi E iscrivetevi al canale